Ieri è stato lanciato l'allarme, oggi le ricerche sono continuate senza sosta sul monte Gelbison a Vallo della Lucania per il ritrovamento di un uomo di 77 anni. L'escursionista originario di Vallo ieri pomeriggio aveva telefonato un parente per chiedere soccorso, poi la telefonata si è interrotta. A nulla sono servite le continue chiamate sul cellulare dell'uomo, probabilmente il telefono si era scaricato. Sul posto i carabinieri di Vallo della Lucania, guidati dal capitano Anna Rita D'Ambrosio, è un vasto dispiegamento di volontari e associazioni di soccorso. Le condizioni meteo hanno rallentato le ricerche già molto complesse a causa della zona impervia. Fortunatamente l'uomo è stato ritrovato questa mattina dai soccorritori ed è stato trasferito tempestivamente presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per i controlli. A fine ottobre scorso anche un altro uomo si era disperso sulla stessa montagna del Sacro Monte Gelbison di Novivelia. Il 44enne, dopo aver lanciato l'allarme telefonicamente, è stato poi raggiunto in località Montescuro dai carabinieri del Parco del Cilento. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i militari del nucleo operativo radiomobile Carabinieri di Vallo della Lucania.